Il primo posto è ora più distante per il Cavabasket, che ha dovuto osservare il turno di riposo nello scorso weekend nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. I metelliani, reduci da due sconfitte consecutive, a causa della sosta forzata si sono staccati dal vertice, occupato dalla cestistica Benevento, che è andata a vincere a parete per 86-59. C'è anche il successo della palacanestro Trinità sul campo di Pozzuoli, per 79-65, ma la Basilicata Sport ha perso, 76-66 per la Folgore Nocera sui Lucani. Dunque, dopo la quattordicesima giornata della Serie C Silver, la classifica dice così. Al primo posto la cestistica Benevento a 26 punti, sempre a punteggio pieno. Al secondo la palacanestro Trinità a 22, al terzo posto il Cavabasket, che di punti ne ha 18. I metelliani torneranno in campo domenica alla palestra Mauro e Gino Avella di Cavare Tirreni, alle 18.30, contro la formazione di Curti, che è a quota 6 punti. E per la squadra del coach Alfonso Senatore, se non altro, ci sarà sempre la possibilità di fare punti fino alla fine del campionato regolare, perché ha già riposato. I bianco-blu vedono il primo posto ora distante 8 punti, ma hanno l'obbligo di provare fino alla fine a rimontare. Poi, se anche matematicamente le possibilità dovessero svanire, il Cavabunterebbe al miglior piazzamento possibile in ottica play-off. All'appendice post-sistern si qualificano le squadre piazzate dal secondo al nono posto e chi avrà la meglio accederà alla Serie C Gold.